Una bella notizia, una bella vincita è avvenuta qua, vero? Raccontaci tutto. Allora sì, finalmente dopo un po' di anni che lavoriamo insomma qua è arrivata una discreta vincita, diciamo. Abbiamo venduto una quota di un sistema del Super Enalotto dal valore complessivo di ogni quota di 10,50 euro. Il sistema era diviso in 72 quote e il sistema ha realizzato una vincita pari a 551.000 euro circa. E il valore di ogni quota era di 7.652 euro. La vincita è stata realizzata con 2.5 e 1.5 più 1, che insomma sono i punti più importanti nella categoria del Super Enalotto. Quando ha avuto luogo questa vincita? Oggi stesso? La vincita ha avuto luogo nel concorso di martedì 11 maggio, nell'estrazione di martedì. Senti, ovviamente c'è la privacy, non si possono fare nomi, ma si è fatto sentire il vincitore o la vincitrice per ringraziare, di solito in questi casi funziona in questa maniera, no? Grazie per essere stati parte in causa della mia vittoria o ancora tutto tace e quindi c'è un toto vincitore, se così lo possiamo definire? No, 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 il vincitore si è palesato la mattina, è venuto a riprendere la quetanza della vincita per poi procedere con il pagamento da parte di Sisal. Quanto si gioca in questo periodo anche di Covid? Sono aumentati, sono diminuiti i giocatori che tentano la fortuna nelle varie tipologie di sistemi che poi ci sono all'interno della vostra struttura? In questo momento diciamo che il gioco del Super Enalotto le giocate stanno aumentando, anche perché il jackpot è veramente, veramente alto, quindi sicuramente i giocatori tentano l'impossibile, insomma questo sì. Poi certo, ognuno con le proprie disponibilità anche perché in questo periodo tutti i lavori stanno calando, c'è piano piano una piccola ripresa in questo momento, quindi speriamo che comunque i vincitori siano tanti. Questa è la cosa che mi auguro quando verrà estratto il 6 e che vada a tutte le persone che comunque hanno bisogno, così come è andata al signore che ha vinto la cifra, che comunque non ti cambia la vita però sicuramente ti fa vivere un po' più tranquillo. Per quello che riguarda gli altri giochi invece quali sono quelli che vanno per la maggiore? In questo periodo, non so, i gratte e vinci, quelli un po' più ricchi da 5 euro, piuttosto che quelli più smart da 1 euro. I giochi un po' più richiesti dalla clientela, come ti ripeto, è in questo momento il Super Enalotto e i gratte e vinci. E diciamo che i gratte e vinci sono quelli che vanno per la maggiore, perché comunque è una lotteria istantanea. Cioè tu non devi aspettare l'estrazione a giorni e orari addetti. E poi un altro gioco che comunque prima ci si giocava veramente tanto era il 10 e l'8, però anche quella perché è un'estrazione istantanea. Solo che adesso, non essendo possibile sostare all'interno del negozio, quindi diventa un po' più complicato. E quindi è stato un gioco un po' in calo in questo momento, perché viene fatta un'estrazione ogni due minuti e mezzo, dove comunque i clienti si possono vedere i numeri che vengono estratti in diretta. E se togli questa suspense hai tolto un po' l'essenza del gioco, esatto.